ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sullele king tv allora quest'oggi faremo cielo mi manca di questa raccolta di fifa 365 2020 stiamo iniziando stiamo portando cielo mi manca stiamo portando gli spacchettamenti e piano piano cercheremo di concludere insieme come al solito passo passo perché in questo canale le raccolte le terminiamo insieme viene tutto registrato e tutti vengono fatti tutti i video in modo che voi potete seguire passo passo il completamento dell'album quindi mi raccomando iscrivete al canale e attiva della campanella per essere sempre al giornale seguitemi anche su instagram in più c'è qui sotto il link dove potrete acquistare delle figurine a un prezzo scontato che è quello di www manuelcant.it e con un ulteriore 10 per cento di sconto inserendo il codice lele king iniziamo subito a inserire queste figurine la prima la numero 9 che va qui qui c'è cristiano ronaldo che la 9 a dei jong del barcellona e hertz della nazionale dei stati uniti calciatrice che si è resa protagonista proprio nei mondiali di francia 2019 poi abbiamo del liverpool quindi dobbiamo saltare il celsi nessuna figurina andiamo al liverpool a 39 dove c'è origi e firmino ecco qui poi 45 invece ce l'abbiamo che sono angelino e walker del manchester city questa volta poi abbiamo la 47 uguale ce l'abbiamo che è cansello e il e zinchenko passiamo al manchester united dove abbiamo al numero 60 che tegea e baili e baili ecco ok poi sempre per manchester united abbiamo la 66 che mi manca che fa qui sotto dove c'è lingard e pogba ex juventus giocatore francese 71 amata e greenwood poi atletico di madrid 87 ci manca saponic e vitolo poi abbiamo tre giocatori in movimento questa ce l'abbiamo poi passiamo al barcellona dove abbiamo la 102 che ci manca dove ci sono tre giocatori in movimento che c'è baskets raghi ti c'è the young abbiamo messi che doppione poi the real madrid non abbiamo nessuna figurina per adesso poi abbiamo la 141 quindi dobbiamo saltare il lione e arrivare la paris saint germain dove c'è menier e marquinhos ex giocatore della roma difensore centrale poi andiamo alla 168 parliamo del buyer monaco dobbiamo coman miller e le wandoschi poi borussia dortmund 184 sancho reus e al caser poi 227 che è lo scudetto dell'inter eccolo qui va qui sopra e questa ci manca poi passiamo al napoli dove abbiamo la 265 quindi saltiamo la juventus e arriviamo al napoli 265 mi manca che mertens e milic poi 283 dello spartac mosca che sono le maglie anche questa ci manca poi 285 che è lucas giocatore brasiliano dello spartac e gigot giocatore francese poi sempre spartac mosca abbiamo la 288 dobbiamo till il job poi passiamo al bocca dobbiamo a 310 poi c'è salvio de rossi marcone dei rossi che abbiamo trovato anche la figurina normale oltre quella movimento daniele de rossi ddr calciatore che non è stato trattato molto bene dalla dirigenza giallorossa ok andiamo avanti river plate 318 mi manca c'è montiel e angileri poi 337 che la pagina subito dopo e qui abbiamo l'international ci abbiamo ad alessandro e dourato poi 368 nella pagina dopo mi manca anche questa dove c'è pizarro e gonzales del monte rei squadra messicana poi abbiamo la 380 che mi manca delle esperienze sportive dell'unisia squadra squadra d'unisina e poi abbiamo la 448 dobbiamo andare avanti la 248 qui sotto che è del mondiale per club vinto dal real ok ragazzi per questo ce lo mi manca è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e domani